Un sondaggio del comitato 332 di Casematte che ha riguardato circa 600 persone ha messo in luce criticità del centro e cosa manca per i cittadini, scuole, parcheggi, cinema, biblioteca, mercato, centri di aggregazione, bagni pubblici, uffici, farmacie, alimentari, teatro, abitanti e molto altro. Queste sono state le risposte e per questo ci sarà un'assemblea pubblica sabato 3 febbraio dalle 16 a Piazza Regina Margherita per analizzare l'esito della consultazione. Il problema più sentito attualmente è sicuramente quello delle scuole e dei parcheggi. Lo scopo del sondaggio era fare un'analisi dei bisogni da presentare al comune. Esce molto chiaro come quello che manca sia la cosiddetta ricostruzione sociale e esce fuori pure in maniera cristallina come la cittadinanza voglia il ritorno di almeno qualche scuola in centro, mentre per la giunta Biondi questo non sta da fare, dicono i comitati che invitano tutti alla partecipazione all'assemblea per poter incidere sulle prossime scelte che riguardano la città. È andato bene, in quanto più di 600 persone in due settimane hanno risposto a questo sondaggio, scegliendo come parola più votata con più di 180 voti scuole. Questo per indicare che la cittadinanza voglia il ritorno di almeno qualche scuola nel centro storico dell'Aquila. Scelta che però attualmente la giunta Biondi sembra non condividere, in quanto dalle ultime dichiarazioni pensa di costruire un po' lo ex novo nell'area di Collemaggio. Scelta che per quanto pare invece non è condivisa dai cittadini aquilani. Al secondo posto della votazione è uscito parcheggi, questo è indicativo del fatto sia che in centro storico manchino dei parcheggi, sia che i trasporti urbani della città siano carenti. Al terzo posto del sondaggio invece è uscito cinema, seguito da biblioteche, mercato e centro di aggregazione. Questo è indicare che quello che poi manca effettivamente nel centro storico è la ricostruzione sociale, quindi tutti quei luoghi che in qualche maniera possono essere aggregativi, ma non strettamente legati al commercio e alla somministrazione di alcolici. Quindi diciamo che questo la cittadinanza ci chiede. Proprio perché vogliamo ascoltare le necessità della città abbiamo deciso di convocare per sabato 3 febbraio alle ore 16 a Piazza Regina Margherita un'assemblea pubblica per analizzare insieme i risultati del sondaggio e anche decidere con la cittadinanza tutta quali possano essere le prossime mosse, da decidere insieme utilizzando la partecipazione per fare in modo che le scelte sul centro storico e sulla nostra città in qualche maniera siano condivise.